Musica Queste sono le tele tipiche romagnoli, sai mamma cosa potremmo fare? Regalarne una a Antonio e Arianna, perché queste sono firmate da Tonino Guerra, le ha fatte proprio lui e le stampano con la ruggine, c'è uno stampo particolare e le stampano con la ruggine, è proprio una cosa tipica. Ad ammettere, vero? Sì, andiamo a vedere dentro che ti diamo un consiglio. Pensierini! Questo è il mangano che lo usiamo per stirare il tessuto. Usiamo il metodo tradizionale, praticamente a distanza di tre secoli, è lo stesso lavoro che facevamo i nostri vecchi. Il tessuto è preparato a volta attorno al subio per essere stirato al mangano. E' bellissimo! Vorrei provare ma ho paura di incastrarmi. Quindi io posso mettere il tessuto preparato a volta attorno al subio per la stiratura. Una volta si diceva manganare la tela. Questo è il sistema che si è sempre usato in questa bottega per rendere queste tele grese, lisce e pronte per la stampa. Sembra cioccolata. Invece? È ruggine? È ruggine del ferro. Ma cosa vuol dire ruggine? Polvere di ruggine? Proprio un quarto con la ruggine del ferro, sono colori minerali. Quindi questo qui Antonio quando mangia il pesce se lo mette... Sono sicura che è funzionale. Faccio due il pacchetto. Sì, grazie. Carine queste, guarda. Belle queste cose. Quindi è una sorpresa però. Lo facciamo avere Antonio e Arianna. Un pensierino semplice. Un pensierino della Romagna, della nostra gita Sant'Arcanzio.